Lunedì 1 novembre 2010 via Margogne, località San Giacomo di Veglia, sono le 15 circa, siamo nella fase di pina del 5 meschio a seguito delle precipitazioni occorse nelle ultime 48 ore circa, in particolare nell'ultima ora e mezza, due ore, sono caduti probabilmente più di 30 mm di pioggia con intensità molto elevata, verso nord infatti si continua a vedere la precipitazione aumentare. Qui di solito l'acqua appena appena supera questo muretto, mentre le ore vediamo che è in piena totale. Qui il livello sta salendo progressivamente, anche se dopo gli interventi seguiti alle esondazioni del 2004, ora il livello dell'argine è stato di circa un metro e per adesso la situazione è ancora sotto controllo. Ci mancheranno circa 60 cm e probabilmente basteranno per evitare esondazioni. Si tratta comunque del livello più alto, probabilmente almeno dal 2004 dopo l'ultima esondazione legata ai temporali estivi.